Giovedì gnocchi, ma oggi è domenica Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuori e una k, è il posto giusto Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina Virtuale Virtuale, brava, bravissima E' da un po' che non ci vediamo, ci siamo presi una vacanza Ci siamo presi una vacanza, la programmazione va rilento Perché i fondi scarseggiano e rischiamo di aver chiuso qua il canale Dalle varie emittenti locali No ragazzi, non sono stata, non ho avuto il tempo di mettermi tra i fornelli Quindi qua se non cucino io Qua se non cucina lei non si mangia E quindi oggi una nuova ricetta, cosa ci prepari? Oggi gnocchi, però non è giovedì, quindi devo fare degli gnocchi diversi E allora siccome è autunno ho pensato agli gnocchi di zucca Che ne dite? Non lo so, andiamo di là e vediamo come si fa Vediamo Ed ecco gli ingredienti per fare i nostri gnocchi alla zucca 450 grammi di farina, nel mio caso E un uovo intero 5 grammi di sale e mezzo cucchiaino di zucchero 600 grammi di zucca cotta, di polpa di zucca Cuociamo la zucca allora Potrete cuocerla o al forno o in microonde Vi sconsiglio la cottura lessa perché prenderebbe acqua e per gli gnocchi non va bene Ok, una volta aperta la zucca Svuotiamola da tutti i semi Ovviamente la zucca prima lavatela nelle parti esterne Perché poi andando dentro con le mani Sempre portate ciò che c'è fuori sulla polpa Quindi io vi consiglio sempre di lavarli Adesso a seconda che procediate in forno a microonde Seguite due heater diversi Se procedete in forno avvolgete la zucca nella carta alluminio E mettetela per 20-30 minuti in forno a 180 gradi Io invece vado in microonde Quindi inserisco queste due metà della zucca nel microonde Punto 5 minuti alla massima potenza e lascio andare Allora, una volta cotta la zucca diventa morbidissima e facilissima da mondare Quindi adesso la tagliamo a pezzi E togliamo la buccia così Il cuocerla prima di sbucciarla ci consente di avere pochissimo spreco Perché proprio prendiamo tutta tutta la polpa Frullo la mia zucca Potete passarla col passaverdure, frullarla Io la metto nel blender per una questione di comodità Un velluto Solo zucca senza aggiungere nient'altro Dopo aver reso purea la zucca Versiamo zucchero e sale nella farina E mescoliamo per bene Incorporiamo la nostra zucca Guardate che bella vellutata Io la passo al blender perché è veramente l'unico modo per farla venire così vellutata Senza aggiungere acqua o senza aggiungere liquidi, latte, formaggi o quant'altro E comincia ad amalgamare A questo punto inseriamo il nostro uovo Adesso ad occhio prendiamo un cucchiaio di legno e della farina Perché ogni zucca ha un'acquosità a sé E quindi ogni zucca richiederà una sistemazione della ricetta Quindi a poco a poco, a cucchiaio a cucchiaio Utilizzo un cucchiaio di legno perché fa più leva Aggiungo un po' di farina E vi faccio vedere la consistenza a cui dobbiamo arrivare Io penso di fermarmi a tre cucchiai aggiuntivi Voi fate il vostro rapporto Quindi dovete raggiungere un panetto che sia così lavorabile e soprattutto stendibile a salamini A questo punto è arrivato il momento di lavorare i nostri gnocchi Prendo un po' di farina e la poggio sulla spianatoia E prendo il nostro impasto Che piano piano lavorerò a salamini E poi ricaverò degli gnocchetti più o meno tutti della stessa grandezza Bene, continuate così finché non avrete modellato tutti gli gnocchetti Buon lavoro! Dopo aver fatto tutti gli gnocchetti Io ancora ne ho un po' da fare Ma intanto vi porto avanti con la preparazione Come vedete io do un'unità di forma a tutti Semplicemente prendendo il gnocchetto per il gnocchetto E passando sopra la forchetta Quindi in modo che vengano tutti più o meno simili Continuate il vostro lavoro pazientemente Questi sono lavori da domenica mattina di pioggia ragazzi Come oggi Quindi riunitevi con le vostre zie e con le vostre nonne E fate questi gnocchetti E divertitevi Divertitevi Io continuo il mio lungo lavoro A dopo A questo punto gli gnocchi sono pronti Portate ad ebollizione abbondante acqua salata E tuffateli dentro per un minuto Non di più Un minuto Appena risalgono a galla Sono pronti per essere impiattati Se vi interessa la ricetta degli gnocchi Fermatevi qui Adesso invece vi faccio vedere come li condiamo noi Per la nostra salsa Lo squacquerone ci occorreranno Una confezione di squacquerello Di nonno nanni No Usate lo squacquerone che volete Io ho questo Ed è 250 grammi di squacquerone E 120 grammi di pepato vecchio E un pochino ad occhio di latte Come prima cosa Grattugio il mio pepato Direttamente in una padella a sponde alte Io userò questa sorta di padella barra wok Metto i 250 grammi di squacquerone Accendo la fiamma Aggiungo un goccino di latte Ok 20 ml Non di più E lascio sciogliere Nel frattempo Metto sull'acqua per gli gnocchi Ne ho messi 3 litri Per quel 3 litri e mezzo Per il quantitativo di gnocchi Che ho preparato Prendo il sale E salo l'acqua E faccio sciogliere lo squacquerone Appena inizia a sobollire Spegniamo la fiamma Non appena l'acqua bolle Iniziamo a versare i nostri gnocchi E non appena riaffiorano a galla Li tuffiamo nello squacquerone Cioè li raccogliamo E li rituffiamo nello squacquerone Che ho messo lì accanto Nella padella a sponde alte Man mano che gli gnocchi salgono Catturiamoli Voilà Scoliamoli E versiamoli Nello squacquerone Ok Tutti gli gnocchi sono tornati a galla Quindi Riattizziamo la fiamma Sotto lo squacquer house Muoviamo un po' I nostri gnocchi E poi Una bella pioggia Di pepato vecchio Wow Wow Quindi Mantechiamo E siamo pronti Per impiattare E per gustarci Questa Prelipatezza Bene Vi faccio vedere Il piatto Impiattato Un altro pochino Di pecorino A guarnire il tutto E buon appetito Bene Avete visto che buoni questi gnocchi Sono veramente Come dire Morbidi 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 E gustosi Perché appunto La zucca si sente tantissimo Io Come avrete visto nelle foto Ve li ho fatti vedere Sia a tocchetti Che conditi Li ho conditi Con una cremina Di squacquerone E pecorino vecchio Quindi molto Molto saporiti Anche perché Il pecorino E la zucca Stanno benissimo insieme In un'altra alternativa Che vi do buonissima E con la provola affumicata Quindi una cremina Di squacquerone E provola affumicata O di quello che volete voi Anche burro e salvia Ragazzi Sono buonissimi Sempre Anche semplicemente Col burro E soprattutto Anche solo con la salvia E certamente E solo con la salvia No No Asciutto E soprattutto Però con l'olio e salvia Sì Possiamo andare avanti Oppure Anche solo con l'olio Allora Quello che volevo dirvi Me lo sono dimenticato Quindi possiamo Possiamo anche chiudere qui No no Volevo dirvi Che volevo dirvi No veramente Hai avuto un blackout Mentale Bene Queste cose succedono sempre Perché lei Mangia troppi dolci Ho capito Benissimo ragazzi Ah me lo sono ricordato Cosa volevo dire Allora Volevo dirvi Che non vi fate scoraggiare Dal fatto di dover fare Gli gnocchi a casa Perché fare gli gnocchi È facilissimo Sia di patate Che di zucca Che di quello che volete voi Lo gnocco È facile da fare E ragazzi Soprattutto Si dice Gli gnocchi Vi prego Non mi fate sentire I gnocchi I gnocchi Mi si contorcono le budella Vi prego Antonellina Antonellina Clerici Non dire I gnocchi I gnocchi Gli gnocchi Ragazzi Ok Bene Questa è una notazione Proprio per il mio benessere Psicofisico Perché ogni volta Che io sento I gnocchi Muoro Muoro E allora Ma lo gnocco al femminile Eh Bene Perché non è il gnocco Capite È lo gnocco Quindi al plurale È gli gnocchi Ma io non voglio fare la maestrina Questa è una polemica Per Antonella Clerici È solo per te Antonella Io ti voglio bene Ma hai fatto Dieci anni di trasmissione Di cucina E nessuno ti ha mai detto Che si dice gli gnocchi È un pochettino Brutto Con tutto ciò Che io sono una fan Svegatata Quindi questa cosa Mi stonava troppo Possiamo andare avanti Perché mi sto fissando Sulla cosa E potrei diventare Tipo stalker Quindi la chiuderei qua Provate i nostri gnocchi E fateci sapere Cosa ne pensate Bene E se anche tu Vuoi vessare Qualche VIP Qui Lascia un commento Qua sotto E poi È un errore comune Questo di chiamare Gignocchi L'importante È non sbagliarlo Al femminile Va bene Bene E quindi Basta parlare Noi ci vediamo Sempre qui Sulle vostre tavole Ciao Arrivederci Ma la sono cercata Ciao 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 Ciao